Ma tu sei riuscito anche oggi a portarmi in mezzo all'acqua, ma lo sai che non mi piace? Ma guarda che meraviglia, guarda lì al nord ci sono le Alpi, al sud le colline Moreni che siamo in Veneto, amico mio, e lì a due passi c'è la Lombardia e laggiù, ma proprio laggiù il Trentino Alto Alice. Avranno capito i nostri amici a casa dove siamo oggi? E qui siamo a Peschiera del Garda. Queste sono le mura patrimonio mondiale dell'UNESCO. Abbiamo chiamato l'artiglieria pesante. Eccoli qua, Denise e Sabin. Benvenuti a Peschiera. Ben trovati. Insomma, una storia bellissima Peschiera. Peschiera del Garda è una fortezza veneziana del XV-XVI secolo e abbiamo proprio delle mura rinascimentali costruite sopra quella che era una struttura medievale, scaligera, del dominio scaligero del 1200 e oggi ci troviamo questa unicità che anche l'UNESCO segnala dandoci un sigillo nel 2019 proprio per l'unicità di una forma pentagonale e l'unicità del fatto di essere completamente circondati dall'acqua del lago di Garda che qui diventa Fiume Vincio e prosegue per diventare Fiume Po. E anche il centro storico di Peschiera ha una storia incredibile. Assolutamente. Abbiamo un'origine di Peschiera già dal periodo del 3500 a.C. e un nome che è quello di Arilica, che è proprio il nome originario di Peschiera del Garda, che dà anche il nome agli abitanti di Peschiera del Garda, che sono gli Arilicensi. Che significava? Arilica ha un significato che può essere tradotto come il dove tutto scorre. Eh beh, in effetti qua scorre, eh! Pantarei! Tutto scorre! Delisa, quali sono i luoghi più caratteristici su queste mura? I luoghi suggestivi sono più di uno e adesso qua dietro di noi abbiamo Porta Brescia, che si chiamava Porta Campagna ed è la porta, una delle due porte d'ingresso di Peschiera del Garda. Qual è il tuo luogo del cuore? Il mio luogo del cuore è il canale di mezzo. Secondo me collega le due isole di Peschiera. E i palazzi sono colorati, dall'altro lato c'è il maestoso Palazzo degli Ufficiali e quindi quello è uno dei miei preferiti.